Sì, prego. Grazie Presidente. L'interpellanza che è firmata da più di 30 colleghi di varie regioni e di vari gruppi riguarda la situazione dei lavoratori cosiddetti atipici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Gli IRCS sono sostanzialmente ospedali di eccellenza che fanno insieme cura e ricerca scientifica. Questa natura mista del loro lavoro è quello che effettivamente permette un servizio di eccellenza in particolare nella cura di patologie rare e gravi. Gli IRCS sul territorio nazionale sono 49 e 21 dei quali sono effettivamente istituti pubblici. La parte di cura degli IRCS dipende dal Ministero della Salute e le persone che ci lavorano sono assunte a tempo indeterminato come dipendenti pubblici del Ministero della Salute. La parte invece di ricerca è finanziata con contributi variabili del MIUR, contributi pubblici, bandi europei, bandi di fondi privati. Il fatto che ci siano appunto dei fondi variabili fa sì che i lavoratori della parte di ricerca scientifica siano assunti con contratti atipici, borse, partite IVA, con ovviamente delle limitazioni rispetto ai loro diritti da un lato e dall'altro lato alla programmazione della loro vita. Con il decreto legislativo 75 del 2017 è stato inserito però un divieto per la pubblica amministrazione di stipulare contratti atipici, COCO in particolare. L'obiettivo del decreto legislativo era giusto, cioè quello di eliminare la precarietà nella pubblica amministrazione. Si condivide l'obiettivo generale del decreto legislativo ma questo, riferito al caso degli IRCS, effettivamente mette in pericolo il funzionamento di queste strutture perché gli IRCS da un lato non hanno gli strumenti finanziari strutturali per il personale della ricerca e dall'altro non possono bandire concorsi per l'assunzione del personale sul lato della ricerca. Il 20 di giugno sono state proclamate le agitazioni nei 21 IRCS pubblici per segnalare la preoccupazione dei 3.500 dipendenti, quindi un numero abbastanza notevole e poi se ci si riferisce in particolare alla Lombardia i lavoratori sono mille in un settore che è un settore di eccellenza anche produttiva per questa regione. C'è già stata una risposta, un'interrogazione della collega Donata Lenzi da cui emerge che ci siano da parte del Ministero della Salute una serie di proposte normative per il riconoscimento del personale della ricerca sanitaria ma noi chiediamo al Ministero della Funzione pubblica oggi esattamente come si intenda intervenire per scongiurare il pericolo che gli IRCS corrono alla fine dell'anno quando questi contratti non si potranno più fare e 3.500 persone rischiano di non poter più lavorare nelle condizioni in cui lavorano oggi che non sono magari le condizioni più giuste da un certo punto di vista ma sono le condizioni in cui questi istituti hanno operato fino ad oggi e quindi la domanda è come il Governo intende lavorare per evitare una chiusura di un settore produttivo importante che ha a che fare molto col servizio ai cittadini. Grazie mille, adesso la parola al Vice Ministro Bubbico Sì grazie Presidente, anche in questo caso io personalmente condivido le preoccupazioni considerata anche la rilevanza delle attività a cui fa riferimento l'interpellanza non solo in termini di appropriatezza e di qualità delle cure sanitarie e delle cure mediche ma di quella relazione positiva che nel corso degli anni si è realizzata tra attività di ricerca, attività di cura e accrescimento delle competenze specifiche che il sistema riceve attraverso gli apporti che i singoli progetti di ricerca riescono a garantire. La risposta è formulata dal Ministero della Salute, voglio anticiparlo quindi non so in che termini la questione possa essere diciamo valutata sia valutata dal Ministero della Funzione Pubblica Esiste questo problema, il Ministero della Salute è consapevole di questa preoccupazione e infatti si ricorda che la proposta normativa di cui stiamo parlando è orientata ad un decisivo miglioramento della qualità e dell'efficienza delle attività di ricerca sanitaria avendo introdotto all'interno del sistema sanitario i principi della Carta Europea dei Ricercatori di cui alla legge 124 2015 relativi al personale operante negli enti di ricerca pubblici essa inoltre consentirà per gli istituti di cui parliamo, per gli X, la possibilità di avvalersi del personale che ha ormai acquisito notevole competenza nel settore della ricerca a questo fine il Ministero della Salute ha già avviato una rilevazione delle diverse figure professionali coinvolte nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria sono state definite due distinte aree del personale di ricerca l'area ricercatore e l'area professionalità della ricerca è stata altresì avviata una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca reclutato dagli IRCS per contratti di lavoro a tempo determinato atipici quali COCOCO, COCOPRO, assegni di ricerca, eccetera farà lamentato che la norma in questione delinea per tale personale un percorso di sviluppo professionale che se concluso positivamente permette l'ingresso nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale in merito alle ulteriori richieste formulate dagli interpellanti si è ritenuto di acquisire i necessari elementi informativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica con il quale il Ministero della Salute ha intrapreso un intenso percorso di collaborazione in relazione alle problematiche in esame al riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto di fornire le seguenti precisazioni innanzitutto il divieto di contratti di collaborazione continuativa già introdotto dal Decreto Legislativo 81-2015 e ribadito dal Decreto 75-2017 per risolvere il problema del precariato e chiudere le procedure di infrazione a livello europeo entrerà in vigore solo per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2017 e non intaccherà i rapporti in corso a quella data quindi i programmi già avviati potranno concludersi questo mi sembra possa desumersi da questo orientamento inoltre diversamente da quanto affermato dagli interpellanti tutte le forme di lavoro flessibile anche da ultimo previste dal Decreto Legislativo 75-2017 sono aperte anche agli istituti di ricerca i vi compresi i contratti di collaborazione previsti dall'articolo 7,6 del Decreto Legislativo 165-2011 attribuiti a esperti di particolare e comprevata specializzazione per prestazioni di natura altamente qualificata come nel caso dei ricercatori degli IRCS non sussistono quindi i paventati pericoli di paralisi della meritevole e apprezzatissima attività di ricerca svolta da tali istituti infine il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministro Madia condividono appieno gli sforzi del Ministero della Salute per migliorare le condizioni del personale della ricerca degli IRCS tanto che ha aperto un tavolo tecnico già riunitosi presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e sono in corso interlocuzioni con gli stessi istituti al fine di chiarire la portata applicativa del testo unico sul pubblico impiego come novellato dal Decreto 75 del 2017 e per trovare ogni possibile soluzione ai problemi del personale degli IRCS posti dall'interpellanza insomma viene confermato l'impegno perché le preoccupazioni segnalate possano essere risolte garantendo stabilità nell'attività di ricerca e di cura di questi importanti istituti che contribuiscono in maniera significativa a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie oltre che garantire risultati importanti sul fronte della ricerca scientifica grazie La ringrazio adesso la deputata Quartapelle Procopio ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza Grazie molto il Sottosegretario anche per le parole di vicinanza e di attenzione personali poste sulla vicenda certamente il Governo è uno e quindi il fatto che risponda al Ministero della Salute invece della funzione pubblica dovrebbe essere rassicurante al tempo stesso però credo sia abbastanza evidente che serve un concorso di azioni da parte di vari ministeri ed è per questo che l'interpellanza era rivolta alla funzione pubblica e non al Ministero della Salute che ha già risposto e aveva già risposto ovviamente come c'era da aspettarsi manifestando attenzione, preoccupazione e segnalando alcune cose che si stanno facendo serve fare un lavoro di concerto, servono le risorse e quindi serve coinvolgere il MEF ma serve in particolare coinvolgere la funzione pubblica per verificare la compatibilità della disciplina del pubblico impiego e degli obiettivi della riforma della pubblica amministrazione con la soluzione prospettata dal Ministero della Salute che è una soluzione di cui si sta discutendo da anni e che torna sul tavolo nel momento in cui il Ministero della Funzione Pubblica ha effettivamente preso delle decisioni che mettono in discussione l'assetto esistente e che al Ministero della Salute effettivamente andava bene mi sembra ottimo capire che c'è in corso un lavoro di indagine per capire di ricognizione di quanti contratti, tipologie e il tavolo tecnico in corso mi preme però sottolineare una cosa è vero che i contratti in essere non scadono il 31 di dicembre del 2017 ma è anche vero che spesso questi sono contratti annuali o di poche annualità e quindi non possiamo non immaginare che nel 2018 se non si arriva alla paralisi si arriva comunque a una situazione effettivamente di stallo di un settore che ha un sacco di persone impiegate su progetti che sono annuali o che andranno a terminare nel 2018 quindi io ritengo che il tavolo tecnico non debba essere un tavolo diciamo esclusivamente così per prospettare alcune soluzioni ma debba essere un tavolo che nel breve periodo in vista della legge di bilancio arrivi a formulare alcune proposte operative che poi possono trovare appunto il sostegno parlamentare più ampio come dimostra il fatto che ci sono stati vari atti di sindacato ispettivo firmati da vari gruppi politici per arrivare a una soluzione della questione la questione deve essere risolta guardando ad alcuni elementi sicuramente valorizzare il merito e in questi istituti in particolare nell'ambito della ricerca c'è molta eccellenza della ricerca italiana questo non lo dobbiamo dimenticare dobbiamo appunto stabilizzare la possibilità di fare ricerca in questi settori che sono dei settori chiave per il futuro anche del nostro paese e dobbiamo provare a trovare delle soluzioni che mantengano o rafforzino la capacità di fare ricerca io mi auguro davvero che insomma si eviti un po' il rischio che c'è in queste situazioni cioè che per risolvere un problema più ampio quello della precarietà nella pubblica amministrazione si creino altri problemi in settori che non sono stati debitamente normati e debitamente tenuti in considerazione quindi davvero buon lavoro al Governo al Governo tutto non è un problema solo del Ministero della Salute è un problema anche di MEF e di funzione pubblica e ci auguriamo che insomma siccome c'è solo un Governo si possa rispondere in modo congiunto grazie la ringrazio adesso passiamo all'interpellanza urgente numero 21842 dei deputati Salta Martini ed altri concernenti chiarimenti in ordine alla sussistra